Sì un'anime della Camera dei Deputati sul sostegno per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali. Il testo, approvato a Montecitorio con 438 voti a favore e nessun contrario, passa al Senato. 100 milioni di euro per risollevare l'economia di questi borghi, pari al 70% del totale dei comuni presenti sul territorio. Il disegno di legge passa ora all'esame del Senato, con la speranza che possa diventare legge definitiva dello Stato entro la fine dell'anno. I contributi stanziati saranno impiegati per la messa in sicurezza di strade e scuole, la promozione delle produzioni agroalimentari, la riqualificazione del patrimonio immobiliare in abbandono e la manutenzione del territorio. Aiuti importanti che potrebbero frenare lo spopolamento dei comuni inferiori a 5.000 abitanti. Speriamo che non sia un intervento una tantum, ma il segno di una presa di coscienza dell'importanza delle aree interne dei piccoli comuni, afferma cauto il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che tanto si è battuto per la questione dei tagli e dei trasferimenti e che esattamente un anno fa aveva chiuso le porte del municipio in segno di protesta. Orgoglioso, invece, il sindaco di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano, che afferma Le battaglie svolte da tutti noi, sindaci e cittadini dei Monti Dauni, iniziano a dare risultati. Questo è il riscatto di chi crede nel futuro di un territorio in cui ha deciso di vivere.